La mia passione per l'illustrazione è nata tanti anni fa assieme alla passione per i libri però ho iniziato a pensare di voler diventare illustratrice quando ho frequentato un corso di illustrazione a Sarmede in Italia e lì ho capito che l'illustrazione poteva anche essere una professione vera e propria. Cosa mi aspetto da Bologna? Bologna non lo so perché è stata una sorpresa essere scelta per esporre le mie illustrazioni lì e quindi non lo so, mi lascerò sorprendere da quello che succederà. Allora, cosa mi aspetto da Bologna? Beh, penso dei rincontri abbastanza ricchi con altri illustratori e mangiare dei buoni piatti di pasta Allora, ho disegnato un gatto perché adoro i gatti e ho fatto un gatto ticinese perché ho preso il blu e il rosso non quitto. Allora, ciao!